Ok ragazzi, nuovo episodio, nuovo livello, salutiamo allo zio Stevie che ci ha dato il suo livello, Under the Snow, sembra un livello normale a prima occhiata, quindi vediamo se è così, la percentuale non è bassa ma non è nemmeno tanta volta. Passiamo al livello di Super Mario Bros U, stile questo, tema neve, la tema neve ok, un livello inizia con una normale, niente di preoccupante, ok qua ci sono sti cosini qua, uccidiamole, andiamo di sopra va, ok no di qua non posso colpirlo, perché ha fatto così, qual è il senso di fare sta cosa qua, quale, penso di aver capito ma non voglio saperlo, di qua, tu che fai, qual è il tuo scopo qua nella vita, ma ok ma insomma si è capito come bisogna prendere, però leggermente riprovo, al pari dove avevo messo le scalattine, disgraziato di un goomba trasformato in sto coso qua, scendete dai, ciao pallotto lupi, voi sono distante, ok, qua ho rischiato, un pochino ho rischiato, vai cupa vai, monetine perfetto, va bene, intanto ce ne andiamo di qua, via, scendiamo, qua ci starebbe bene la canzogina slide, in questo momento, ok, catch point, un catch point, un catch point, allora se vado di sopra ho paura di rimanere bloccato, però fammi provare, non si può salire, no, non mi fa salire di qua, come prendo quella monetina allora io, perché intanto mi faccio la strada, no, mi sa che di qua no, devo andare di qua, si, ecco, ehi piano che esplodi tu, tu state buono qua e non fare troppi danni, allora, qua non c'è niente, ecco, non c'è niente, non so se fidarmi di ste frecce, comunque, entriamo, ma, ok, eh, si, ok, ok, mo che devo fare, spiegatemi il senso, aspetta, no, no, potevo passare qual è il senso di sta cosa qua, ecco, non c'è, questo non aveva senso, di qua si può entrare, si, si può entrare di qua, ok, eh, monetine, funchetto, va bene, monetine che cadono, oh, Yoshi, ah, 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 non so se serve, ma, eh, vorrà dire qualcosa, ma intanto possiamo andare di qua sopra, forse, no, non penso proprio, uh, allora sì, ora sì, ora si spiegano tante cose il Yoshi c'è apposta qua dai aspettiamo che escono tutti vai tiè beccati questo ok ora si ora sei tu allora entriamo ecco si è capito il senso di sta cosa qua ecco bella pensata mi piace ok vado a destra o vado giù io vado a destra ok la cosa qua è preoccupante ma niente di grave per adesso perché dovevi farlo così lungo tiè perché sto casino ma perché non si è andata a destra scendi 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 guarda che ha dovuto inventarsi qua ma forse posso passare e se dovevo scendere giù non c'è fatto già l'uscita non me l'aspettavo così non me l'aspettavo così allora bello ovviamente a prescindere difficoltà tre stelle da era un livello normale ok secondo livello questo qua ci è stato offerto da frank08 credit level special ok non dovrebbe essere molto difficile ma andiamo a vederlo ok iniziamo bene ok vai andiamo di sopra non so perché ahia mi sa che però mi serviva quello cioè non so se aveva calcolato il fatto che potevo saltare di sopra io avevo pure la vacanza di giro di super mario kart vai oh però odio i kart ah ci sono le monetine non le avevo viste tu state buono qua che fanno delle stelle là per terra ok lasciamo sto cosa che io odio i kart entriamo qua dentro vediamo che c'è c'era una freccia qua ok ci sei tu perché tu sei qua perché ti odio tanto ma disgraziato questo è partita a razzo ma è disgraziato maledetto disgraziato guardalo va guardalo va ora diventa invisibile ovviamente per farmi dannare a me ti è beccati questo ok il senso di venire qua qual era qual era il senso di venire qua dentro che ci dovevo farsi ti ho perdonato per la canzoncina però l'hai fatta finire subito vediamoci di qua vediamo un po' sali luigi sali sali mi manca mi manca una molettina oh ok c'è la chiave c'è la chiave c'è la chiave ok va bene va bene allora questa qua dovresti metterla quando c'è in discesa quando vai in discesa ho paura di fare così che sta combinando ok che ci devo fare qua ah ok ho capito vieni qua buttati giù buttati giù aha niente chiaro poi me lo spieghi no mi devi spiegare queste cose eh grazie ok andiamo di qua un'ultima vieni qua tu fammi passare la cosa positiva è che non mi ammazza ok vai abbiamo la chiave abbiamo la chiave eh qualche c'è una stella oh via entriamo in questa porta penso che di si fatto ok ok no livello facilissimo era facilissimo un sacco di cose che non ho capito ma comunque bello 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 e come difficoltà ovviamente ci mettiamo un bel 2 non è che era proprio da 1 2 ci sta 2 ci sta terzo livello ragazzi boss fight da Matteo F14B ciao Matteo allora la percentuale completamente è del 28% quindi non dovrebbe essere troppo difficile ok si inizia in un castellino che abbiamo trasformiamo in Luigi gatto ci sono un sacco di missili ok un sacco di pallotto questo questo ha la possibilità di fare una cosa rientriamo qua quindi vediamo che c'è qua dentro un tubo spero che non ci siano trollate queste cose ok di qua c'è qualcosa non c'è niente però qua mi fa prendere il fiore mi sa che mi servirà mi servirà aha aha c'è il miauser un gigantito pure vieni vieni qua vieni qua vieni qua ma se me ne vado di qua che succede? ah mi servirà ah c'è la chiave ok vieni miauser oh vieni qua vieni qua ehi voi che vuoi fare? che vorresti fare? uhu uhu ma quando se ne va oh aspetta oh aspetta uhu c'è mancato poco c'è mancato poco che mi colpiva vai intanto aggiuntiamocene da qua uhu che ci può in the way uhu tu state buona qua tu sei l'originale si capisce che c'è il shuriken rosso ecco si nota si nota il shuriken quello falso c'è quello grigio eccolo là eccolo qua vai è fatta pure sta parte via e adesso entriamo 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 ho dei kart dimmi che non li devo prendere per favore si li devo prendere va bene prendi i kart uhu vai pirata della strada ok grande 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 bel livello bel livello Matteo bravo allora non era difficilissimo quindi era una bella boss fight hai dato molte possibilità di sopravvivere da antipotenziamenti quindi tre stelle va benissimo qua vai quarto livello di super mario eugene allora mi ha specificato che dei tre che ha pubblicato questo è quello più facile allora non so come si pronuncia non la dico non ci ho provato poco fa ma non ve la faccio sentire che saranno no no giochiamo va giochiamo chissà che ci aspetta qua ma c'ho una una preoccupazione perché c'è sto silenzio che ok perché c'è sto silenzio perché ci ha messo tutti i stalberi perché ha fatto perché c'ho paura che qua ci possa essere qualcosa ok la freccia indica di qua ok ok devo devo uccidere lui ah ci devo dare un altro saltino vai ecco e adesso spiegami il senso qua che devo fare devo andare di qua ma dice che devo andare di qua ok che ci devo fare qua ok abbiamo trovato la strada abbiamo trovato la strada ok c'erano sti blocchi nascosti di qua uh funchetto ok perfetto 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 ma mi aveva preoccupato sto coso qua che era nascosto dico già iniziate il livello non lo potrò finire voi state buoni là non mi fate vedere aspetta ok ma quello rimane là ok uh sono andato vicinissimo ma com'è che questo è sceso qua eeeh state buoni state buoni aspetta no disgraziate di ste piante state buone al lato oh cavolo oh cavolo non devo entrare in nessuna parte no ok uh aspetta che qua devo fare con molta calma quasi calma non è che ho tutta la calma possibile ah dovevo calcolare bene i tempi ok siamo entrati siamo entrati John catch point qua perfetto ok corri 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 ok scendi giù scendi giù sali su ecco lo sapevo io ho capito il catch point mo sarà un problemino allora devo devo capire adesso come muovermi ok dai che ho capito come fare dai che ho capito come fare vai corri Luigi corri corri e salta bene pure vai Luigi vai non ti fermare non ti fermare non ti fermare corri corri vai corri aspetta ok vai 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 perfetto quella non la prendo non la prendo oh vai sceso vai grande mamma questa mi è stata distinta ok qua già mi preoccupa ok dimmi che c'è un potenziamento qua per favore no c'è un potenziamento E ora vado a destra o a sinistra? Andiamo a sinistra Ok, qua c'è un tubo Un power up No, volevo dire un Un coso Vieni qua, vieni qua Mi sa che mi servirà secondo me, non so perché Aspetta, ho il dubbio Ecco, sì, ecco Aspetta, come devo fare qua? Come lo lancio sopra? Vieni qua, vieni qua Sta scappando, disgraziato Buoni Allora, ma per rompere queste cose qua Come devo fare? Tu non ci puoi entrare Però te facciamo una cosa Buonamente No, buono Buono Tante buono, tiè Ma proviamo a rompere Sto coso Allora, dimmi che qua c'è un Funchettino, no, niente Funchettino Ah, ma forse ci sono Aspetta Ecco Ecco fatto Ecco fatto Mamma Mamma mia Disgraziato Quanto Che si è inventato Per fare sta cosa Ah, già Allora Andiamo di qua Va Ok, portano tutte e due Alla stessa parte Ok, prendiamo queste monetine Lasciamo perdere le monetine Ehi, state buono Tu, via Andiamo di qua Dimmi che non mi uccide nessuno Ok, perfetto Ok, saliamo Buono Disgraziato Disgraziato Maledetto Ok Ok, c'era già una soluzione Qua, perfetto Mamma Che livello Che si è affombinato Qua Ok, no Di qua No Devo andare Là sopra Cavolo Come ci arriviamo Ahia Qua è dura Qua è dura Però ci possiamo Ce la possiamo Ok Ho trovato Che devo fare Ok Ci siamo Ci siamo Dammi il coso Dammi il coso Meno male Meno male Allora, aspetta Piano Con delicatezza Aspetta Aspetta Eh, vabbè Facciamo le cose Con calma Facciamo le cose Con calma Ci siamo Quindi è già qualcosa Quindi aspettiamo Che ci lancia il po Tiè Vai E siamo entrati E siamo entrati Vediamo Pure la boss Fatti con le piantine Ok Va bene Va bene Allora Con calma Di qua Non si entra Qua è pericoloso Però Bomb Ma perché 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 ho fatto così Ma pensavo che la potevo prendere subito Eri Eccoci qua Luigi Le bombe E le piante Allora Cerchiamo di non farci fregare come prima Ecco Io mi ho convinto che potevo beccarla Tranquilla Non so Che mi è passato per la testa Allora Dobbiamo farla invinare là dentro E aia Non sarà facilissimo Vai No Nemmeno adesso Allora Tu mi stai antipatico Giusto per far sapere che mi stai cominciando a preoccupare Allora Vediamo da qua Se provo a lanciarla lì così No Non va bene Vai Guarda come l'ha fatta bene sta parte Ok Ok grande Abbiamo la chiave E il problema è Dove la porta Ah Qua E qua Allora One out Grande Allora Facciamo attenzione che siamo senza potenzialmente E qua ci possiamo aspettare di tutto Allora Potrei prenderla sta monetina in teoria Si Facilmente Ehm Non so che aspettarmi da questo momento in poi C'è un'aria tranquilla La muschia è tranquilla Però Non vuol dire niente Non vuol dire niente Dovevo andare a guardare pure di là Ma mi sa che Qua Aspetta Eeeh Ecco Dovevo sbrigarmi Vabbè Tanto ci ha dato la possibilità di Di poter Ritornare indietro E poter provare a fare qualcosina Aspetta E qua mi serve qualcosa Se no non si Aha Aha Ok Ok Aspettiamo il momento giusto Uh 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 Dattemi Dattemi una calmata Ah Aha 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 Ecco qua Ecco qua Come possiamo fare adesso Tiene Beccati questo Aspetta Ti becco Aspetta 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 Vai più sopra Ecco Ora si Ora No dai No 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 Basta che l'ho superato Basta che l'ho superato Aha Bel livello Mi è piaciuto da morire sto livello Ragazzi Bravo Bravo Eugene Bravo Ovviamente Bello è meritatissimo Ingegnoso Difficile Quattro stelle Assicurato Non era di difficoltà Chissà come Ma quattro stelle Sui cinque Ci stanno benissimo Bene ragazzi Con questo episodio Abbiamo terminato Io vi invito ad andare giù In descrizione Per guardare le mie collaborazioni Iscrivervi al canale Attivare una campanella E lasciare un bel like ragazzi Mi raccomando Noi ci vediamo Nella prossima live O nel prossimo video Io vi saluto Il mio solito modo Come sempre Quindi ragazzi Ci vediamo Io chiudo fra 3 2 1 0 e mezzo E ciao 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 Ciao